Baloo è un bellissimo pastore maremano di dieci anni che arriva dal rifugio appunto virgola di Modena. La sua è una brutta storia vero? Sì lui è arrivato rinunciato dal suo proprietario perché non poteva più camminare e poi abbiamo scoperto invece che gli avevano causato una grande infezione le zecche, è bastato un po' di antibiotico, un po' di cure, cibo ed è tornato splendido. Portami a casa chiocciola dalla parte degli animali.it è la mail a cui dovete scrivere oppure possiamo telefonare direttamente a punte virgola a Modena, quale numero di telefono? È il 346 37 24 682. Grazie a tutti.